Amici di Teletrash, buonasera! Questa è un'indizione straordinaria dell'inviato speciale di Teletrash perché questo è assolutamente un colpaccio! Guardate cosa ho scovato! Guardate! Tanto per cambiare nel totale integrato e abbandono! Qui c'è di tutto! Di tutto e di più! Fiat 682! Tre assi! Battaglino! Eccezionale! Spettacolare! Spettacolare! Qui le riprese sono molto difficoltose! Per via dei rovi! Guardate questo camion! Guardate questo camion come lotta con tutte le sue forze! Con tutte le sue forze lotta! Contro i rovi! Contro la ruggine! Contro il selvaggio totale degrado e abbandono! Guardate! Guardate! Tre assi battaglino! Rarissimo! Fiat 682! In stato di totale Degrado e abbandono! Totale degrado e abbandono! Ragazzi! E' assolutamente inammissibile! E' assolutamente inammissibile! In concepibile! Che dei pezzi di storia, della storia dei nostri trasporti debbano lottare così contro il selvaggio degrado e abbandono! E contro i cacciatori che gli sparano contro! E' inammissibile! 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 Guardate! Guardate! Un camion di adesso non resisterebbe neanche un decimo del tempo! Senza sparire, senza spriciolarsi la plastica! Questo è ferro! Che ferro che era! Guardate! Guardate! Siamo proprio in una situazione di selvaggio, degrado e abbandono! E questo camion resiste! Sì signore se resiste! Con tutte le sue forze! Con tutte le sue forze! Guido l'inviato di speciale di Teletrash! Buona serata! E alla prossima!